WAHEI! Ben ritrovati nell'altro link, non vanno in questo nuovo episodio di Nazo Meleven Ghost Rikers 2013 Squadra in gran parte nuova, ci sono giocatori che potete già vedere qui E anche questo qui in particolare, che non è Sean ma è Hatsuya o Aiden Insomma è fratello di Sean, sì perché quando si trasformava era Hatsuya o Aiden e non Sean Ma, ma, la squadra l'ho già provata e mi ha fatto un po' schifo Quindi andiamo a farci un torneo, perché se non fa schifo non ci piace Quindi, torneo della Neo Japan, abbiamo anche l'Italia e i piccoli giganti Cominciamo subito, questo è il quarto torneo Perfetto, come avrete attaccanti talisman, che fa davvero pena Sosuke, Beta, Sean che in realtà è Hatsuya E Tasuke, e lui ovviamente come portiere Mi avete anche detto più volte di reclutare Maxi degli Imperiali? Arriverà alla prossima partita, non temete Non temete, eccoci qua Contro la Neo Japan nel campo della Raimon del terzo anno No, del secondo anno in realtà, però vabbè, terza serie comunque Anche perché poi finisce lì Poi c'è nel campo in erba Insomma Beta è davvero tanta roba Ed è molto forte E le ho dato l'armatura come tiro speciale e non semplicemente lo spirito guerriero Perché è perfetta con l'armatura Piuttosto che con lo spirito Anche perché è più forte il tiro In teoria, se una tecnica consuma più punti È anche più forte Sì, però non mi uccidero ogni volta Perfetto Vediamo se riusciamo a segnare però con Beta Perché, insomma, la partita è già che bella iniziata Beta è carica anche da un pochino Quindi sarebbe anche ora che inizi a segnare Il portiere appena la palla è in aria Ci si avventa come un avvoltoio su una carcassa Nel sole del deserto Cioè sotto il sole del deserto Però avete capito Eh no, non me ne frega niente Consuma i punti al diavolo Non mi interessa Avete rotto un po' le scatole Quanto ne ho consumati però? Non dovrei avere Tutto Tutto praticamente Bravi Vai, tre Dalla distanza è piuttosto importante Vai Ce la facciamo, dai Non è un problema Oddio Molto lente è arrivata Ah, la muraglia infinita c'hanno loro Sì Beh, vabbè, dai Insomma, ci stava Ci stava Sì, stavo caricando il Miximax di Victor Ma preferito di no Poi ti ho cambiato il giocatore Anche perché poi devo ancora reclutare Vladimir Che si recluta con i codici Sì, lo so So anche qual è il codice Perché su internet Da anni ormai sono usciti i codici Wow Aspetta, c'è Talisman Perfetto Non è molto potente Astro Break Ma hai il suo perché? Dovrei farcela tranquillamente No Insomma, me la fate sudare Cos'è? Da solo Io manco lo stavo controllando Vabbè Lui c'è infinito Perfetto Allora, Betta dovrebbe essere di nuovo carica Da quello che ho visto Se i miei occhi non mi hanno giocato un brutto scherzo Sì Vai Mentre faccio il balletto Eh, mo proprio al massimo Gli è lo spalmo in faccia Con tutta la barriera gigante qua La muraglia infinita Un po' di cemento Insieme E via Si amalgama tutto Che Che Senso di appagamento E di soddisfazione Una volta che riesce a fare gol Ah, lui che tiro ha? Non manco mi ricordo È una settimana tipo che non gioco Con questa squadra Ah, Tenraiho Ta Tenraiho Ta Vediamo due di fila Vabbè È ovvio Eterna rubrizato Ok, ci siamo Siamo in aria In aria di tiro Per quanto riguarda L'idea che ha di aria In a zoom eleven Non è che bisogna per forza Entrare Nell'aria vera e propria Basta stare lì vicino Insomma Tre gol Praticamente di fila Perché si è finito i punti Attenzione Potrebbe No Non ce la fa Ero anche io in burning Si l'ho attivato Alla fine L'ho attivato Ma dai L'avevo No L'avevo caricato L'avevo anche già lasciato Siete dei pezzi di cacca Il gioco penalizza molto il giocatore Mentre il computer Chi se ne frega Siamo il computer Dobbiamo vincere, no? Altro che FIFA Altro che FIFA E ve lo dico da non giocatore di FIFA Però leggo molto Che la gente si lamenta Si lamenta di FIFA Dei pali Delle cose E in effetti Vedendo alcuni video Si riporta E qui è lo stesso Ti penalizzano È calibrato male Come fuori gioco in Go Il fuori gioco nel primo Go Era tarato malissimo Insomma È andata bene 7 gol Hanno segnato un po' tutti quelli che volevo far segnare Quindi ci siamo alla grande Vediamo ora la seconda come va Contro l'Italia Dovrebbe vincere di diritto Ma Mettiamo quindi Dimeter in campo E gli altri Mettiamo Sean Un pochino più avanti Tutti mettiamo qua E Sean Così Perfetto Darren Se la gioca La prossima Perfetto Sean Anche se Dovrebbe essere Sean Lo chiamo comunque Sean Sean è abbastanza carico Si lo so che ho detto Non è Sean È Atsuya Ma Fate Lasciate fare Mannaggia Se non perdeste I tre quarti Del movimento Che fate Ah Due solamente Eh non potevo aspettare Io so come ragione il gioco E so che Quando può fermarmi Perché lo intuisco oramai Però Voglio provare a spingere Proprio più possibile Il giocatore La persona vera Voglio vedere Fin dove può spingersi E ovviamente rimango sempre deluso Quindi dovrei evitare di farlo Ma Troppo È troppo Cos'è Cos'è successo Lì Sean Vuoi spiegarmi No Ok Faccio call con lui Non è vero Beh Sì Potevo avanzare Ma Dietro Angelo Mi faceva molta paura Perché era carico Allora Non mi derudere ancora una volta Gigi Blasi Per nulla Ispirato a Buffon Strano però Forse era troppo distante Perché vento contro montagna vince Quindi Lontanina eh Divine Arrow è lunga Non lo ricordo Dovrebbe essere lunga No Quelle erano le frecce che sono lungo Vabbè Tiro che fa Austin Nel lungo Ho sbagliato completamente Direzione Non ciò che fa Sì 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 Di meglio Va bene Ceppo Fermo lì E vabbè Quattro Ne avessero beccato uno Avanti Ce l'ha fatta Mamma mia E' come se io facessi un gioco e dico Ragazzi questo è il mio gioco E' tarato alla perfezione Giocate E poi mi dici guarda Andrea qua c'è un bug Tipo quando premo A invece di premere A premo B Invece di fare fuori gioco mi dà un fallo Capito? E' questo quello che intendo E' la stessa cosa Certo è un pelino applicata In maniera diversa perché qui c'entra il tiro I pulsanti in poche parole Rimangono indietro rispetto al testo Rispetto all'immagine o al testo Vai Entra in aria carica Non ce la fai La guardia del colosseo Ma così roviniamo un monumento Ohioioioio che primo tempo brutto Sì vabbè sto in vantaggio ma fa schifo comunque Sì vabbè non ti saltare per un gol Davanti alla faccia me l'ha fatto Triple boost E finisce 6 a 1 Mettiamo anche Goldie e ci siamo Contro i piccoli giganti Quello ogni volta che ripete il suo nome Ok perfetto 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 Okta Va bene vabbè da qua da qua da qua Vediamo un po' se Hector Helio ce la fa parare Esagerato Si è pure bloccato talmente esagerato Anche il gioco ha detto Cos'era? I doppia? Lo vogliamo proprio uccidere? Dalla distanza Vediamo un po' È molto distante A lui piace fare Paolo Vai Eh vabbè allora Solo questa c'hai? La X dove è finita la X? Niente fa schifo questa Più guardi la X 2 a 0 Dai paralo ora Dai È un livello 2 Se fai la mano dello spirito è a livello 3 Meno male Deve pararla ora Come? Vabbè Hector è una pippa allora C'è poco da fare Allora ci riproviamo da qui ora Un pochino più lontano Tu devi fare Tamashida Hand Quindi Proprio Ce la fai eh Bravo ok Dai E forse perché Lo dici in giapponese Tamashida Hando Lo dici male Devi dirlo bene Cioè è più forte Portere dell'Italia Che No Hector Non lo so Genere portere della squadra finale È più forte Proprio per natura È l'ultimo David ridi poco Che qua ci tarabbiagni solamente Ti stiamo facendo a pezzi la squadra Proprio Ora devi pararlo Mi arrabbio se non lo pari E sei scemo allora Ma com'è possibile? Non è possibile Non è possibile Era centrocampo era È una pippa Hector È una pippa È una pippa Hector da centrocampo eh Mi raccomando stavolta Hector Voglio godermi la scena Eh si è indebolito Ah ok Ok A meno la parata Era grave se no Era molto grave Rafframu Attenzione però Livello 3 potrebbe tirare Vediamo se Darren ora è all'altezza È molto vicino eh Molto vicino Darren è più forte Darren è più forte Insomma anche questa è finita Lo schifo Io non vedo l'ora di scoprire Qual è questo Non ha voglia di scoprirlo Ma prima dobbiamo farci tutti quanti gli altri Va bene Per questo video è tutto allora Nel prossimo cercherò di trovare Maxi degli imperiali Allenarlo un pochettino magari E vediamo Che cosa è in grado di fare Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo come sempre al prossimo video Bye bye Ciao